E' già tempo a sciacca di riposizionamenti politici che, va detto in tutta onestà, in qualche circostanza erano già scattati prima delle elezioni di domenica scorsa. E' così che il gruppo politico di Fabrizio Di Paola aveva già deciso di trasmigrare dalle parti di Forza Italia, offrendo il proprio sostegno elettorale alla compagna di Gaetano Armao, Giussi Bartolozzi, regolarmente eletta alla Camera dei Deputati col sistema proporzionale. E' imminente ormai la dichiarazione di Salvatore Monte che in Consiglio Comunale si dichiarerà un esponente di Forza Italia. Notizia che però ieri sera durante la nostra diretta sul commento alle elezioni ha sorpreso non poco il coordinatore forzista Antonio Casciaro. So che un altro consigliere lo avrete. Ma non ci teniamo noi ad avere consigliere comunale, a noi interessa di eleggerle noi consigliere comunale. Purtroppo, visto che mi hai stuzzicato, noi Forza Italia alle comunali appuntato a vincere le elezioni. Svelo le mie carte. A me risulta che Monte dovrebbe passare per Forza Italia. Scusami, non esiste. Monte poi vediamo se è possibile. Noi vogliamo eleggere i nostri consiglieri comunali. Adesione dunque quella di Monte a Forza Italia che a quanto pare starebbe passando sopra la testa dell'attuale gruppo dirigente cittadino, forzista, ma è una questione che sicuramente sarà risolta in tempi brevi perché il ritorno da quelle parti di Fabrizio Di Paola non può non venire apprezzato. Ma potrebbe avvenire prima del tempo invece un'altra collocazione in consiglio comunale, quella di Gaetano Cognata, eletto con Alternativa Popolare, il quale dopo aver salutato Giuseppe Marinello, non avendo condiviso più la militanza nel centro-sinistra, rappresenterà in sala Falcone Borsellino il simbolo di Fratelli d'Italia. Insieme a lui c'è anche David Emmi, militante della prima ora del movimento di Giuseppe Marinello, che ha deciso anche lui di trasmigrare dalle parti di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni a Sciacca di Francesco Pisano avrà dunque un esponente in aula. Tutto questo significa il ridimensionamento finale del gruppo di Giuseppe Marinello. A rappresentarlo, ancorché con la lista Progetto Sciacca, rimangono solo Calogero Bono e Giuseppe Miglioti. Bono al momento non intende fare alcuna scelta. Il risultato elettorale della lista civica popolare di Beatrice Lorenzin è stato assolutamente deludente, simbolo forse di stanchezza, oltreché di disimpegno politico da parte di militanti, che come dimostrano le stesse dichiarazioni dopo le ultime regionali di Giuseppe Miglioti, si sentiva un po' troppo sballottato da destra a sinistra. Ma al pari di Calogero Bono nemmeno Miglioti al momento intende ricollocarsi. Dall'altra parte al momento non ci sono grossi sommovimenti, anche se c'è chi torna a parlare di possibile revisione dell'attuale composizione della Giunta Valenti. L'assessore Giuseppe Neri non ha più riferimenti alla Regione. Anzi, dopo la non rielezione di Cimino e Cascio, Sicilia Futura potrebbe perfino sciogliersi come soggetto politico. Annalisa Longi non ha una rappresentanza consigliare a sostenerla, ma si sa che questo è un tema sul quale Francesca Valenti non intende cedere di un millimetro. Nel frattempo non è più un mistero che Carmela Sant'Angelo si sia avvicinata alla posizione politica del deputato regionale Carmelo Pullara, esponente autonomista eletto col centrodestra. Ma è una collocazione regionale. Il mio impegno a Sciacca continua lealmente nella coalizione in cui sono stata retta, accanto a Francesca Valenti, ha precisato oggi l'avvocato Sant'Angelo al nostro telegiornale.